Nico, in questo video dobbiamo esplorare tantissimi biomi diversi trovando i loro segreti all'interno che saranno dei bottoni per l'appunto nascosti e chi ne trova di più ovviamente vince, sei pronto? Io in realtà il primo l'ho già trovato, è questo qua Conta un punto No, questo è il bottone dello start, c'è il tuo start e iniziamo da qua quindi È come un bottone Ho cliccato io e iniziamo dal biomo della foresta Foresta palese, su un albero In cima all'albero proprio dobbiamo salire Ma il magiale si chiama? Come si chiama? Ernando Ernando, in spagnolo Ernando Allora, il bottone, no Mi sa che non è proprio sull'albero, Nico Cioè, forse è sull'albero, ma non in cima all'albero Ma potrebbe darsi che sia qua Eccolo qua Di primo l'angatenico? Sì, comunque, se era studiata la cosa palese Io non ho mai giocato questa mappa, l'ho appena scaricata questa mappa Non l'ho mai giocata, te lo giuro Ma Nico, ma sono una cacata i bottoni, scusa Ma l'hai già trovato? Ma dove sei? Cioè, devi salire Sono salito, sono sceso ed è arrivato qua il bottone Cioè, me l'ho trovato qua davanti proprio Vuoi salire anche te? È un salito Vieni, seguimi Seguimi, vieni qua Ma sono sopra Come hai fatto a salire lì? Scusa? Oh, c'era una trapdoor Ah, ok Avevo comunque il bottone lì Ma l'ho trovato Io ovviamente 2-0 per loco? No? Sì, ok Ovviamente Le versioni siamo 1-20 Quindi possono essere anche sott'acqua Siamo nella 1-21 Sott'acqua Dove sono? Eh, io l'ho trovato Ma non è possibile che in 2 secondi Ma io mi stavo shiftando per non farmi vedere Vabbè, sei andato tu Ah, ma scusa Buongiorno 3-3 secondi? Che cavolo Allora, secondo me è in casa per forza, dai Eh, ma ce l'ho guardato Non c'è sta niente Sicuro, magari sotto il letto No, sotto la cassa Ah, 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 l'ho trovato Come l'ho trovato? L'ho trovato Eh, te lo faccio trovare a te Ti dico solo fuoco e acqua Se vuoi Hai di acqua a fuoco Mi chiedo a quello 3 volte Eh, ma, ok Dimmi tipo un punto fermo Ti dico dov'è Fuoco Tu credi che questo è fuoco? Effettivamente sì Siamo due pari Deserto Il livello numero 5 Allora, secondo me adesso inizierà L'ho trovato Davvero Sì Come hai trovato? Dov'è? È lì E come ci arrivi lì? Così Come ci arrivi? Non ci arrivi lì? Poi così E poi così Come ci sta arrivato lì? Ah, da qua Beh, ci si arriva No, vabbè Sta mappa mi diceva Che era facile Comunque Credi Ovviamente lo è Aveva ragione No, mi diceva che era difficile Sta mappa Allora Invece è una cacata Sono un po' E sei anche un po' confuso Ma io non ho parole Io non ho parole Davvero Tanto guarda Qui c'è un parkour palese No, ecco solo L'ho trovato E qua sotto Ah, questo Invece si rica questo Sì, ha tipato me Ah, questo è più grande Questo effettivamente È più grande La montagna Sarà impossibile trovare Non sarà mai in cima La montagna Difatti non lo è Magari è una Una vecchia tratta Ma non si vedeva molto Non si vedeva Tutto qua si vede Ma non si vede molto Siamo nella giungla Qui è dentro il tempio Dentro il sicuro Dentro il tempio O avvi Dietro un'aliana In un secondo di nuovo Vabbè, quello è sicuro Però è dietro un'aliana Secondo me Eh, può darsi Ah, però Stavolta Non è che Io non ho accorto Sinceramente Hai accorto Di tutti gli alieni Qua c'è l'aliana Ma quello si può superare Non si può andare oltre Nico Ci sta bloccando Guarda un po' Io salo in cima Come hai fatto a salire Ah, di qua Quindi è per forza Al cento per cento in cima Giusto? Secondo me è tipo Un rametto qua Da ste parti Non lo so Vediamo Proviamo a salire qua Hai trovato? Puoi salire anche In un altro albero Comunque, no? Per forza il mio È più alto questo Lasciami qua, no? Voglio spiegare il mio albero Sopra Sopra non c'è stato Aspetta che provo Andare sull'altro albero Ehi Sono Però albero Scusa Non ci sono tanti bottoni Da mettere su un albero Devi ragionarli in questo modo Come hai fatto a salirli te Scusa? Da quell'albero lì Da quell'albero E come si dice Devi fare parkour tra alberi Aspetta, n'azzo Quindi prima Devo salire su questo Poi andare sull'altro albero Puoi salire sulla casa? Sul tempio? Io ti dico che Mi puoi chiedere tre volte Fuoco o acqua Acqua? Lì è proprio Un tormento No, un tormento Una tormenta Acqua? Eh, qui è un falò Quindi è qua Da qualche parte Che cavolo è? Eh, ma il falò Non è un braciere Attenzione Il falò è molto più ridotto Ma è troppo davvero Mi stai prendendo in giro? Sì, l'ho trovato E dov'è? Però non è detto che sia qui Qui è fuo che è falò Vediamo se qua sotto Chiedermelo solo un'altra volta Sai zitto che un attimo Che sto giocando io Con le mie hack Da qualche parte In giro L'ultima volta Non c'è niente Non c'è neanche un bottone qua Eh, puoi chiedermi allora Mettiti in un punto E chiedimi fuoco acqua Acqua? È lì un po' più di falò Un po' più di falò Rispetto a prima? Un pochino più di falò E infatti era lì L'ho trovato io Il bottone, vero? Ma non è vero Ma quanto siamo? Non sto più dando il conto Io quanto siamo? Non lo so Sto vincendo Mi sa che siamo pari In realtà Sicuro che siamo pari? Pissi di sì Che siamo 4 a 4 Ok Se lo dici te Va bene Da ora in poi Anche se Anche se dico Ho trovato 6 bottoni Io 2 Siamo 4 a 4 adesso Così iniziamo a contare Che è mio Era in vantaggio Non lo so Non mi ricordo sinceramente Va bene? Non mi ricordo niente Allora Sì Hai già trovato No Lei è E lui è È l'assassino della papera No Vabbè Non No No Lascia stare l'assassino della papera Io sono per la pace nel mondo Bisogna A posto Ma lei era papera Ma tu sei per la pace Appena ammazzato qualcuno Ma che papera è vicino al pulsante? Davvero Eh papera è vicino Ma l'hai trovato davvero? Come non l'hai trovato? Invece l'ho trovato io Ma allora Ma non Non è manco detto che l'hai trovato Come faccio sapere io? Ma l'ho trovato all'inizio Ma scusami Come faccio sapere Che tu hai trovato davvero Non mi stai mentendo Eh? Io non vedo dove siamo messi Come faccio sapere Che tu l'hai trovato davvero Non mi stai mentendo Dimmelo Bisogna sbrogliare per vincere Io sì A differenza di qualche ecco appunto Stiamo scherzando Quindi siamo 5-5 giusto? Vabbè sì 5-5 adesso Badlands Dai allora Però stiamo sperando Tutti i biomi di minecraft Che sono molto belli Io questo lo continuerò a chiamare Mesa Sono un All-style minecrafter Ma si è sempre chiamata Mesa Non si chiama più Mesa No non si chiama Mesa In italiano no? Non lo so io Boh Com'è che funziona qua Non credo La Mesa E le Badlands Non lo so Che come si chiamano La Mesa E le Badlands Però non c'è comunque C'è dell'oro Nel fiume Qua siamo Qua siamo La febbre dell'oro Nico Guardatevi quel programma T'è la febbre dell'oro Assolutamente no Com'era? Era bellissimo Che cercava l'oro nei fiumi Era stupendo Allora comunque Non l'abbiamo ancora trovato Stavolta Potrebbe essere più difficile Al solito O magari non c'è il pulsante Semplicemente Nabbè Esserci penso ci sia Però a livello di blocchi Che pulsante potrebbero esserci? Beh direi che Non l'abbiamo trovato Eh ma non L'hai trovato? No non l'ho trovato Non è qua nell'angolo Nico guarda bene nell'angolo Nico qui nell'angolo Ma sei stupido Nico Ma che angolo? Ma sei stupido Ma ma ragazzi ma Voi lo vedi nel bottone giusto? È lì? È esattamente nel bottone Nico non lo vede Cioè è lì Lo sto guardando Ma Nico davvero lo vedi? No non stai nel bottone Lo sto guardando Ma stai guardando me? Ma non è vero È in questo momento Guarda il bottone Eh sono più Ma sono sempre io È qua sotto l'albero pirla Ah che bello Pronto per il culo Però sicuramente è in cima all'albero Dove far parkour E lo troverò in due secondi Eh vabbè come preferisci Ma non riesco a fare il primo salto L'hai trovato Non l'ho trovato Mi sono chiuso in un buco E il bottone Non l'ho trovato Mi sono completamente chiuso E non so più dove sono finito Nico mi dà la mano Che è pieno di neve qua È fiera una presa Per il culo No sto detto Sono sotto la neve Mi stai prendendo in giro Ti giuro che sono sotto la neve L'ho posto più uscire Io da qua Ah sneakier Ah nico come stai tutto bene Ho trovato il bottone Ho perso di nuovo il conto Ma dico che l'ha creato Sta già scritto sneakier Scusa Ho farmi sono citato Ma siamo in una penua La penua è facilissima In me c'è il path Il path nasconde Vedi anche te questo Vedi anche te questo muro Ma che è più scuro Aspetto all'altro In video mi sa che non si vede Ah Visto L'ho trovato io però questo Eh no Come no C'è un muro Io ho detto che muro Sono entrato a cliccarlo Ma quindi ci sono anche I blocchi invisibili Ma che figata Com'è possibile scusa La magia questa Allora qui io so dov'è Cioè perché è palese Si può nascondere soltanto In un punto Ora devo capire quale Tutto No ma che Oddio Si in realtà Potrebbe essere anche sotto il muro Qua No 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 Secondo me è troppo Cioè lo so No un po' È un po' difficile sul muro Beh eh ci sta che Gli ultimi tre livelli Sanno i difi Siamo quelli difficili No Per una volta Però non è neanche dove pensavo Quindi forse è sul muro Potrebbe essere sul muro NICOM Nonna mi ha appena portato l'uva La vennevi un po'? Teni mangi No grazie Però ho trovato una casa Come una casa Una casa Tu hai qui Ma hai chiuso fuori casa Un attimo Un attimo Un attimo Un attimo Un attimo Un attimo Hai trovato? No mi sa che è davvero sul muro E invece no L'ho trovato io Ha 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 Il potere dell'uva Il potere dell'uva Il potere di mia nonna Grande nonna Oh cosa è successo? Sono nell'acqua Tu sei nell'acqua? Facciamo un bel bagno? Ma si è aperto un pistone Come si è aperto un pistone? Dove? Non so L'ho sentito Secondo me tu sei pazzo Tu senti le cose Vedi i suoni Quindi ti vedi invisibile Comunque Davvero mi vedi invisibile Come hai fatto? Non so Ah ho capito Ma perché non sentivo i suoni io? C'è un problema Sì mi suoni Dico l'ultimo livello Cherry group Quando la princess Princess Peach È la princess Princess Peach At the end of the E' qua sotto Non c'è il bottone Quindi Che vantaggio Chi si ricorda Che sono per conto Io E Non lo so C'è un vantaggio Ma c'è un po' di stranezza Ragazzi Contate voi nei commenti Fatemi sapere quanto siamo Alla fine Questo livello Allora Io sinceramente Non ho ancora avuto niente No Neanche io Anche se sono sicuro Che sia Sulla casa Secondo me Eh C'ho già guardato Però di certo Anche sopra la casa Io ho guardato Non lo so Non mi convinci A meno Che O potrebbe essere qua sotto Era un bello spot Era un bello spot Sotto le scale Ma non c'è niente Non c'è nulla Anche qua Cos'è qua sotto Non c'è più pulsante Abbiamo perso Dai è rosa Dovrebbe essere bello visibile Qua c'è un tappeto rosa Ok E non è nulla Non penso che sia Sul muro Dai Cioè Sul muro Ti vedrebbe Non lo so È tutto rosa qua Rosa per rosa Ma in casa Dai per forza in casa Così apri la porta Sotto il letto Non c'è niente Ma non è che ti puoi mezzare la porta Come fanno quelli cattivi Ho già controllato Non c'è tranquillo Ma tu l'hai già trovato Mi stai trollando No Non l'ho trovato Hai presente che hai detto Che era difficile Sì Boh io l'ho trovato Come hai trovato Ho usato l'X-ray Come hai usato l'X-ray Però Posso dirti che è in zona casa C'è la casa Ma dentro la casa fu dalla casa No è fuori In particolar modo su questo tettuccio C'è da questo tettuccio Da questo tettuccio C'è una cosa che non abbiamo visto Ed è proprio il buco sull'albero C'è noi per Quanti minuti siamo stati qua? Ragazzi Abbiamo complicato Ogni singolo bioma di Minecraft Abbiamo trovato ogni bottone di ogni bioma Nico sei contento? Sì però Sì No non fate un'altra Questo punto di Nico Va bene Ha usato l'X-ray Ma fa niente Mi raccomando Fatemi sapere nei commenti Chi ha vinto E se volete altri video del genere Grazie per essere citati Ciao a tutti Mangio un Kiko D'Uva